Ah, non c'è niente di meglio di un buon libro. Weee! Non male come atterraggio, è solo il primo tentativo. Cosa? Sammy, che ci facevi nel nostro cammino? Ciao, Sue, voglio dire ho ho ho. Susan, come ti sei comportata quest'anno? Che stai facendo? Dovresti chiamarmi Babbo. Potresti spiegarti meglio? Babbo Natale ha chiesto il mio aiuto. Come vedi, mi sto esercitando nel consegnare i regali attraverso il cammino. Non credo sia l'opzione più sicura, ma comunque sono certa di aiutarti. Qual è questa tua grande idea, Sue? Hai intenzione di farmi una slitta? Forse la prossima volta, ma restiamo concentrati. Oggi realizzeremo un mini villaggio di Natale. Per favore, disegna una casa su questo foglio. Sarà la più bella di sempre. Disegnerò un tetto, una porta e... Anche qualche finestra ha usato la nostra casa come ispirazione. Guarda, c'è anche la tua camera qui. È perfetta. Sarà l'orgoglio del villaggio di Natale. Visto che in questo periodo siamo tutti più buoni, prendi questo. Adoro il tuo atteggiamento positivo. Non voglio essere sulla lista dei cattivi di Babbo Natale. Ah, sei sempre così furbo. Tutto questo lavoro creativo e faticoso mi è venuta fame. Oh, se mi conosci le regole, lavati i denti dopo lo spuntino, ok? Va bene, voglio proprio evitare che la fattina dei denti venga a cercarmi. Penso proprio che potremmo ingrandirla. Wow, e questo da dove viene? Ero così concentrato che ho finito il dentifricio. Allora, mentre tu andrai a fare la spesa, continua a costruire. È importante che tutto sia ordinato, amici. Sì, ricordatevi sempre di usare il reghello per fare tagli uniformi. Yeah, molto bene. Tranquilla, Sue ci sarà un buco nel muro e men che non si dica. Prendi questo brutto muro. Attento, Sammy, sappiamo tutti di che cosa sei capace. Non riesco mai a distruggere niente, non è giusto. Va bene, mi diletterò con la distruzione dopo. Il coniglietto di Pasqua dovrebbe prepararsi. Tranquilli, amici, Sammy scherza. No, ho mangiato troppo cioccolato, devo andare. Sì, abbiamo finito la carta igienica. Qualcuno l'ha usata tutta. Qualcuno, eh? Beh, possiamo usare questo come cammino per la casa. Faceva tutto parte del mio piano. Ho mangiato troppa cioccolata per andare in bagno. Per favore, non andare avanti, Sam. Risparmiaci i dettagli. Anche perché dobbiamo finire il progetto qui. Faremo un taglionetto proprio qui. E useremo questa metà come cammino. Visto? Si adatta perfettamente. Sta benissimo, Sio. Che altro potrebbe esserci? Adesso c'è la tua fase preferita, la decorazione. Finalmente! Pensavo che te ne fossi dimenticata. Aggiungiamo un po' di colore alla nostra casa così. Dove c'è la carta colorata dovrebbe anche esserci la colla. Grazie, è come se mi leggessi nel pensiero. Adesso capovolgiamo questo pezzo in questo modo e applichiamo un po' di pressione. Mi raccomando, ragazzi, fate sempre attenzione alle lame. Non dovete fare attenzione soltanto alle dita, ma anche al tavolo. Mettete qualcosa per proteggerlo quando usate il taglierino. Ho un'idea fantastica, sarà perfetta per la casa. Ho bisogno di finestre. Guardate, così avrà sicuramente uno stile inconfondibile. È proprio quello che mancava, sì. Costruire una casa è molto più facile di quanto pensassi, anche se pensavo che ci fosse più cemento. Eh, Sio, non credi che manchi ancora qualcosa? Un tetto, forse? Cosa farei senza di te, Sammy? Grazie per avermelo ricordato. Wow, sono un sacco di pezzi. Li mettiamo tutti insieme adesso? Devi avere pazienza. Abbiamo ancora delle cose da fare qui. Stai facendo dei buchi nei muri? Perché non me l'hai detto? Avevo il mio martello pronto qui. No, abbiamo bisogno di un tocco delicato in questa fase. Come vuoi. Posso sempre trovare qualcosa con cui aiutarti. Ecco, proprio così. Perfetto. Finalmente possiamo montare il tetto. Ecco che arriva il cammino e abbiamo finito. Che ne dici, Sammy? Mi piace molto, ma ha bisogno di qualcosa di più festoso, come la neve. È proprio come dice la canzone. Let it snow. Ora sì che ci intendiamo ed ecco il mio tocco finale. Bello, vero? Qual è il prossimo passo? Fammi vedere. Oh, sembra proprio che la casa sia appena stata investita da una forte tempesta di neve. È vero, effettivamente qui dentro fa anche un po' freddo. La prossima volta sarà meglio costruire una casa al mare. La nostra casa del villaggio di Natale è pronta. Adesso dobbiamo mettere tutte le decorazioni. Wow, è come se Babbo Natale fosse arrivato in anticipo. Hai ragione. I colori rosso e bianco hanno qualcosa di natalizio. Ecco una ghirlanda. E questo è un bel fiocco da mettere sopra. Com'è carino, Sammy. Siamo una grande squadra. Ma andiamo avanti. Sembra una caramella, vero? Hai detto caramella? Dove? Dammela, dammela. Calmati, non è una caramella. Lo sembra soltanto. Mi è appena venuta un'idea per tante altre decorazioni natalizie. La casa ha un aspetto fantastico, Siu. Ma sai, ma questo no. Sarà ancora più bella con un albero di Natale accanto. Pensa come un boscaiolo, Sammy. Dove si potrebbe trovare? Questo è proprio quello che cercavo. Attenzione, albero in caduta. Sto arrivando. Guarda qui, Siu. Ho trovato il miglior albero di Natale di sempre. Hai ragione. Aggiungo solo qualche piccolo dettaglio, Sammy. Babbo Natale e il pupazzo di neve sono carinissimi. La casa però sembra ancora disabitata. Tranquillo, so come risolvere questo problema, vedi? Siu, ma non avevamo detto di costruire un villaggio. Mi sembra tutto un po' desolato. Wow, questa è la magia del Natale. Questo villaggio è diventato fantastico. Potrei tranquillamente venire a vivere qui. Ve lo dico io e sono prontissimo a scendere in pista. Ehi, avevi promesso di vivere con me, ricordi? Comunque ti aiuto. Ed ecco un'altra cosa invernale. È un laghetto ghiacciato? Forte, rendilo più visibile, ok? Ok, ora tutti gli abitanti del villaggio potranno venire qui a pattinare. Non è fantastico? E a proposito di abitanti del villaggio, eccoli! Con questo abbiamo finito il progetto. Che ne dite, amici? Stai scherzando? Questo è il più bel lavoro di Natale che abbiamo mai fatto! Ragione, ragazzi! Oh, che giornata! Ho bisogno di assoluto riposo. Oh, oh, oh! Questa consegna di regali è stata un successo! Il villaggio mi ha aiutato a fare pratica! La vedi anche tu, Sammy? Non posso crederci! Una lettera di Babbo Natale! Che stai aspettando? Aprila, aprila! Che c'è scritto? Fantastico! Babbo Natale dice che ti ha scelto come apprendista! Non posso crederci! Devo andare alla prossima, gente! Iscrivetevi al canale e dateci un pollice in su! Ciao, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti.